Eh, eh, sì, era un raffreddore che vi dicevo. Prova a sentire... Non ha ucciso il cavallo! Pezzo di... pezzo di... pezzo di... pezzo di merda! Bentornati cacciatori e benvenuti a questo nuovo video. Quello è un assassino che mi vuole uccidere e torniamo su Skyrim. Non vedevo l'ora, avrei dovuto aspettare un po' di più e mischiarlo con un po'... No, non mi ammazzerai. E mischiarlo con un po' più di altri giochi, ma non potevo veramente aspettare più per giocare. Già non mi riusci... anzi, aspetta che ti vengo a far uccidere le giganti. Eh, guarda un po' questo qua dietro che mi rompe le balle. Se puoi fare qualcosa. Ah no? Contro di me. Buono a sapersi. E non potevo davvero aspettare. Ho giocato anche in vostra assenza, giusto per portarmi leggermente avanti di livello su un paio di cose. Anche perché era una parte particolarmente noiosa in primis. Usteria mi stanno per fare la giacca. Era una parte particolarmente noiosa, mi sono andato in giro, ho raccolto minerali, ho raccolto ingredienti per fare pozioni. Tu gli hai fatto qualcosa a quello là? Bravo, bravo, attaccalo. Anzi no, perché non lo stai attaccando? Attaccalo, bravo. Gigante... uh, mi ammazza anche il gigante. Ottimo, ottimo inizio. Eh, no, aspetta che se no non riesco a parlare. Un attimo, per favore. E adesso vi faccio vedere le cose che ho preso. Stavo per andare a Whiterun, mi sono armato e mi sono portato avanti con i livelli. Senza di voi, tanto di vedermi fare 15.000 pugnali di ferro, bracciali di cuoio e milioni di pozioni inutili, giusto per salire di livello. Sicuramente non avevate voglia. Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati. No, per dire. E tornando a noi, tutte le cose che ho preso nello specifico sono Frangialba, questa spada magica che dà fuoco ai nemici, niente di che. Oh! Uno scudo tranquillo e un'armatura nanica. L'elmo... Teria! E quello di Rinnegati. Stupendo. Hai una bella taglia sulla tua testa, Whiterun. Vuoi morire? Ok. E' il modo migliore che conosco al mondo per morire in questo mondo e rompere le palle a uno che sta facendo una Ranocin. Tu stavi a casetta tua. Bello, bello. Pensa come te stavi bene. Guarda che casseria. Oh! Eliminata la minaccia del riscosso di taglia. La prossima minaccia è il fatto che appena ci avvicineremo a Whiterun. Un bello spadino. Appena ci avvicineremo a Whiterun, tutte le guardie ci correranno contro. Probabilmente ci arresteranno e... Ci... Non so cosa fare. Perché se ci ribelliamo subito, dobbiamo ucciderli. Se non vogliamo ucciderli, però ci dobbiamo far arrestare. Che cosa vi dicevo? Mi hai scoperto pagherò la mia taglia 4.000 pezzi d'oro? Però se vado in prigione mi tolgono oro? Porca troia! Non me l'aspettavo! Che si fa? Lo ammazziamo. Andiamo in prigione o paghiamo la taglia? Ma paghiamo la taglia! Infatti ho giocato un po' da solo anche per mettere da parte un po' di soldi. Prendi pezzente! E non mi rompere più le palle! E ci han prosciugato anche i soldi. Quindi siamo a Whiterun. Tranquilli e le guardie non ci dicono più niente. Ora, c'è una casa da comprare ma non possiamo comprare casa qua, in una di queste città. Diciamo con le guardie perché se no ogni volta rubo una mezza carota o ammazzo qualcuno e fidatevi che succederà più e più volte. Ste guardie vengono qua e fanno i pulciosi con la riscossione della taglia. Poi ci sono... Quindi ho visto però che c'è un DLC a cui io non ho mai giocato a nessuno i DLC di Skyrim. Quindi li andremo tutti a vedere insieme. Ma ce n'è uno in particolare che ci dà la possibilità di acquistare case al di fuori delle città. E addirittura costruircele da sole. Quindi aspettatevi un bel let's build in Skyrim. Di una casa che fortunatamente non è dentro una di queste città e quindi non avremo... Con cui non avremo il problema delle guardie che ci roschiano. Ora... Jarl Balgruf. So io, Bergaster. Bene bene, quindi parlando con lo Jarl di Whiterun ci fanno proseguire nella quest. Con i draghi che è la quest principale. Andiamo a prendere la tavoletta di pietra. Raga torno, così almeno chiariamo sta storia di draghi e vi posso uccidere tutti. Uba, stoncino dolce. Benvenuti cacciatori al nevoso tumulo delle cascate tristi. Poi come fa una cascata essere tristi? E chi è che urla? Ho scelto un pessimo momento. Tua madre ha scelto un pessimo momento per partorirti, bandito. Finalmente non siamo più i pipponi di una volta dove per sconfiggere il primo bandito che si era fatto bandito 5 minuti prima. Dovevo usare 18 pozioni e tutto il mio sforzo. Penso che sia ancora là. E invece sono qua. Banditi. Non osate mettervi fra me e la tavoletta del drago. Con permesso? Oh, posteria. E continua la nostra discesa nelle viscere del tempio. Con permesso. Fateme passare. E ecco. Io stavo... A voi ragni piace il fuoco, mi han detto. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sta funzionando. Sta funzionando il fuoco. Vai via da me. Diceva, signore. Vieni qui. Arvello svelto. Non così svelto, direi. Dov'è l'artiglio dorato? Faccia sapere tutte queste cose. L'artiglio. So come funziona. L'artiglio. I simboli. La porta della sala dei racconti. Io... Ti libero. E poi ti ammazzo. E vabbè. La tua libertà è durata poco, ma... Artiglio dorato. Mio. Mi fa scassare. Vorrei averlo il fuoco dalle mani. Mi fa scassare da ridere. E tu? Si aprono le tombe. Ma io dico, ma perché non si sono aperte? Sarà passato qualcuno prima di me dentro sto cimitero? No. Con loro non si aprivano. Con me sì. Forse sentono la potenza. Dicono... Che sta arrivando? Sento un'aura potentissima. Sarebbe il gaster. Usciamo a rompergli le balle. Ok, qua. E dove dovrebbe andarci l'artiglio? Dorato. Ah no, aspetta. Eh, infatti. Prima dovevo guardare la combinazione sull'artiglio stesso. Orso, falena, gufo. Perfetto. Bam. Funziona? No? Sì. Apri i tuoi segreti. Porta. Ci saranno altri zombie, eh. Però... Eccolo lì il monumento del drago. Eh! Ma aspetto un boss. Di fine... Di fine caverna. Vabbè. Intanto noi... Ci facciamo infondere dalla parola del drago. Bene, possiamo andare. A noi. Cosa vi ho detto? Signora dei drago fustigatori. No? Cos'è stato? Catticosa! Paura. A noi. Oh, anche tu hai la mia stessa tecnica di combattimento, eh. Ma io sono giovane. Non sono duecento anni come te. Oh! Ta! Te fustigo io. Catticosa! Non sono congelato! Ah, ahi! Pozioni. Toi! Quasi morto! Ta! Bu! Ti! Mancato proprio per il colpo di grazia. Che fail. Cioè... Vedete quanto ci ho messo a uccidere? E non lo sapete perché ve ne taglierò? Ci ho messo una vita. Cioè, pietra del drago. Serve... Serve al tipo di white rank. Così possiamo scoprire cosa sta succedendo con i draghi. Vento... Uff, steria. Che arma forte che avevi, figlio, lo mio. Ho preso la tua pietra del drago. Adesso voglio le mie risposte. Farengarde è stato avvistato un drago. Che tra l'altro mi aiuterà a fare. A portare avanti il mio laboretto a White rank. E in questa puntata, entro la fine di questa puntata, volevo anche subito andare a vedere se è possibile acquistare questa proprietà. Questa casa perché ho ricevuto una nota da un altro Jarl che mi ha invitato nel suo regno a comprare questa proprietà appunto del DLC di cui vi parlavo prima. Per costruire la casa e per cominciare a posare qualcosa. Perché ho tanta roba dietro che mi serve e che non voglio buttare. Ma che non è il caso che mi porto proprio sempre dietro con i bracciali dell'alchimia. Quindi fare una casa dove posare i nostri oggetti. Ma non perdiamo tempo. C'è un drago da scopare nel sedere. Andiamo. Arrivo in vostro soccorso. Sciocchi. Cioè in realtà più il drago di voi ne porta via, meno poi ne devo uccidere io. Ma... Oh cazzo. Aspetta che metto il cavallo al sicuro. Tu stai qui buono e non ti muovere. Che qua dicono che sta tornando il drago. Mi chiedo. È più sicuro stare in cima o sotto la torre? E subito mi sono andata una risposta. Ovviamente sotto la torre è brutto il caretino di Bergaster. Così qualcosa... Qualcosa dietro il quale nasconderti. Tirate fuori tutti gli archi che avete. Sciocchi. La magia non vi servirà a nulla. Fiamma di Udun. Mirmul... Come si chiama? Mir... 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 Com'è? Mirmulnir. Mazzeria che nome. Abbattetelo. Abbattetelo. Oh sta mangiando. Sta mangiando. Dobbiamo fermarlo. Bravo bravo. Vai così. Vai così. Io sono dalla parte del drago. Oh cazzo. Ho visto? Volare via. Vai vai. Continua così. Bravissimo. Sì però ho pensato che se poi rimango solo più io. Quello l'ha fritto? Sì penso che non ci sia più nessuno in vita. Grazie drago. Adesso puoi anche andartene. Ah no eh? No il mio cavallo. Il mio cavallo. Qualcuno lo riporti indietro. Cavallino mio. Ti ha spaventato il drago vero? E' terribile lo so. Ma vieni che lo sconfiggiamo insieme. Io attiro il suo fuoco su di me. Quanto fa male di quanto. Wow. Molto vicino. Dai cavallo. Salta cavallo. Mamma mia. Questo cavallo da cross. 4x4. In grado di arrampicarsi ovunque. C'ha gli zoccoli chiodati. Oh no no no. Salta giù. In salvo. Ma quanto sono figo a cavallo con l'arco. No no no. Che freddo. Che freddo. Che freddo. Ah. Che male fai. No seriamente. Seriamente. Mi tocca scendere da cavallo. E farti un culo così. Cavallo resisti. Ci penso io a questo mostro. Oh no. Oh è quasi morto. Ancora un paio di frecce. Cagnas. Che sei un cagnas. Di merda. Vieni qua. Ma come mai hai stilato la kill? Ma stilato la kill sta troia. Siete proprio dei finocchi eh. Cos'è? Adesso che il drago è stato sconfitto. Uccita dalla torre. Faccio solo bene a uccidervi. Faccio solo solo di bene. Ok. Quest'animale del drago è tutta per me. Grazie. Sangue di drago. Cosa stai dicendo? Non ho tanto sangue di drago raga. Più che altro. Si sa che sono tipo allergico ai draghi. Perché senti che... Eh. Raga ve l'ho detto che... C'ho un naso tutto tappato. Un casino. Ci ha detto mica uno spray o qualcosa. Eh. Eh. Su. Scusate ragazzi. E' terribile. Vado a curarmi subito. Cavallo. Andiamo a casa. Quindi molto molto bene. Questa sfida e questa sconfitta, questa vittoria sul drago ci ha fatto imparare, ci ha fatto contrarre questo fortissimo raffreddore da drago. Che sicuramente ci tornerà utile in qualche situazione. Ora, Jarl. Abbiamo qualcosa di cui parlare. Cosa è stato? Avete sentito? I barba grigia? Maestri della voce? Devo andarli a trovare Ah, quel fulmine che urlava Dicevo che avevo sentito una cosa, non sono ancora pazzo Ma prima di andare dai barba grigia, in cima alla montagna tra l'altro Quanto, quanto, quanto ci vorrà Prima di andare lì, come abbiamo detto in questo episodio, voglio comprare, voglio acquistare una casa in cui posare un po' della roba che c'è dietro Perché ormai c'ho sempre troppo peso e un peso immane E lo Jarl di Falkart, Madonna mia che scioglie lingua Lo Jarl di Falkart mi ha mandato una lettera in cui dice che sarebbe onorato di avermi nel suo regname E che c'è combinazione e un fazzoletto di terra da comprare Andiamo a ricevere, da essere ricevuti allo Jarl Non ci riesco a parlare, non so che cazzo c'ho Ho ricevuto la tua lettera, sono Bergaster Sono proprio io Se c'è qualcuno da uccidere, hai trovato davvero la persona giusta Sarà fatto Cavallo, andiamo, ci sono dei banditi da uccidere E perfetto, questo era l'ultimo bandito che c'è chiesto di uccidere, lo Jarl Torniamo da lui e compriamo la casa Jarl, ho ucciso tutti quelli che... tutti quanti Così imparano a non pagarmi Direi di sì Direi di sì Fille di oro Non hai paura di sporcarti le mani No, decisamente Mi interessa molto, vado subito Posso proporti un appezzamento dove potrai erigere la tua dimora È la stessa cosa, ancora 5.000 pezzi d'oro Cioè, fammi capire che comprare una casa già quasi arredata a questo 5.000 pezzi d'oro E il vostro pezzo di terra, 5.000 pezzi d'oro Giusto perché siete voi E giusto perché li ho Adesso sono davvero povero Come un povero Ah, sei un cacciatore Scusa In teoria questi dovrebbero essere lasciati in vita Se sono davvero cacciatori Vabbè, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti Intanto questo lo uccido Così, almeno, ci siamo tolti il pensiero Si rischia un po' questo Cavallino? Cavallino, stai bene? Oh, oh Vedo qualcosa? Vedo uno spiazzo Me l'hanno venduto come spiazzo Vista lago Mo' vediamo se mi ha impaccato o meno Tenuta lake view Nuova scoperta Il posticino Della nostra Nuova casa Oh che bello Ho sempre detto Ma perché non si può costruire la casa anche in Skyrim? Ed eccomi qua Si, confermo che Vista lago Dovremmo tagliare un paio di alberi Magari Ma che sarà? Che sarà? Finalmente posso svuotarmi le tasche E smettere di andare in giro come un rincoglionito sempre pieno di roba Anzi, precisamente come un mendicante Proprio i mendicanti Guarda che prentezza Tavolo da disegno Baule Banco da camper Da carpenpenpen Da carpentiere Guida del latifondista E incudine Me li studierò da soli E nella prossima puntata vedremo Di cominciare a costruire qualcosa O magari cominciamo a costruire qualcosa io E poi continueremo insieme così Avvo già imparato come si fa Intanto posiamo un paio di cose nel baule E E Barba grigia Fino in cima a quel monte Sarà una lunga strada Salve Dobbiamo raggiungere una città E poi da lì si comincia la scalata ai 7000 gradini Non faccia male agli animali Ci penso già io Vecchio orco Vecchio porco semmai Vieni qua E non picchiare il mio cavallo E così ti spengo E così ti accendo E così ti spengo Lo sbalzo termico l'ha ucciso Bene Direi che adesso Possiamo davvero iniziare la nostra salita Ai 7000 gradini Ma non dovrebbe almeno tipo scappare Se io gli butto il fuoco addosso Proprio reazione nessuna Maria Maria No 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 Davanti ad Edrero Davanti ad Edrero No ma ho ucciso un cavallo Pezzo di Pezzo di Pezzo di Pezzo di merda Il mio povero E' durato poco Tanto dovevo uccidere tutti Che ti devo dire Mille pezzi d'oro sprecati E devo farmi il resto della salita a piedi La vita di un cacciatore Siamo quasi arrivati Che comincia a avere male le gambe E' anche freddo Oh Eccolo lì E' o eccola Non so cosa sia una fortezza Un tempio Lì Ci sono i barba grigia Barba grigia Usteria Aspettate proprio Barba grigia Ce l'avete In quest'epoca di Cambiamenti Eh sì Era un freddo che vi dicevo Prova a sentire Terribile Vero che Sono infiammato male Male L'avevo detto io Ma bene cacciatori Io mi sbrighero da solo Tutte queste pipazze Con le barbe di drago Le barbe grigie Lì Non vi ricordavo più Ci faranno fare un po' di prove Un po' di cazzate Le farò da solo E quindi io vi dico Per questo video Può essere abbastanza Vi ricordo Sono Bergaster Un commento qua sotto Non è mai sgradito E ci becchiamo A prossimo video Bella ragazzi Bene cacciatori Questo era il video per oggi Qua c'è il video di ieri Qua c'è un video a caso E se cliccate sulla mia faccia Vi iscrivete Se vi siete già iscritti